Direttamente dalla cameretta magica, benvenuti ad un nuovissimo video. In questo nuovo video recensiremo e assaggeremo gli Oreo ricoperti al cioccolato bianco. Li ho presi al Pauetz sotto casa mia in offerta ad 1,59€, direi un prezzo a fare. Comunque adesso li apriamo. Packaging molto carino. Classico packaging dei classici Oreo. L'odore sembra buono, ora assaggiamo subito. Ottimi direi. Mi durano a 10, tiro a un 10, quindi ve li consiglio. E niente, ci vediamo alla prossima.